Mancano davvero pochi giorni all'apertura del tanto atteso l'8-0 di Teramo, almeno per quanto riguarda il primo tratto. La cosa importante è che i lavori vanno avanti cedermente. Stiamo ricostruendo la fontana che era presente a Piazza Garibaldi, quindi una sorta di amarcord. Ci sarà anche in questa rotonda, ci verrà posizionata la palla di Mastrodascio che stiamo facendo pulire. Comunque rappresenterà uno dei punti di ingresso della nostra città, insomma, perché a Teramo si entrerà non più soltanto da Via Po, ma da Via Po e da Via Conte Contine, quindi dall'8-0. Quindi sicuramente è un'opera importante e determinante. E vorrei dire che chi dice che quest'opera, seppur ancora a metà, ma poi verrà finita nel giro di qualche mese, non è importante perché un'opera vecchia vuol dire che strumentalizza, perché non si comprende come questa strada cambierà anche le abitudini di Teramani. Le cambierà e cambierà in meglio anche tutta una serie di situazioni, quali per esempio il commercio, quali per esempio anche il fatto che si verrà più volentieri a Teramo, perché adesso oggettivamente 40 minuti per entrare a Teramo, dai 30 ai 40 minuti, è pesante. Concluso il primo tratto, si passerà subito al secondo? Il secondo è già in gara, ci sono ben diversi soldini pronti, quindi ci saranno anche i lavori che riguardano l'area archeologica, questo è importante anche dirlo perché ci si dimentica sempre, quasi un milione di euro viene speso per l'area archeologica, quindi quell'area sarà a disposizione dei cittadini Teramani, il Tempio, la strada romana, insomma quell'area è tutta un'area archeologica, non sono tanti lavori da fare tranne l'ultimo tratto, quindi stiamo studiando anche l'innesto sulla strada, la statale che va a Montorio, lì ci verrà una grande rotonda che sarà anche utile, perché praticamente ridurrà anche il traffico, la velocità in quella zona, che insomma è stato anche oggetto in passato di incidenti. Ci siamo, insomma, e per me come sindaco è veramente una grande soddisfazione essere il sindaco che taglierà il naso dell'8-0. Svincolo Cammarana, novità? Svincolo Cammarana, siamo fermi, aspettiamo serenamente il giudizio del 26 di gennaio, il TAR si esprimerà in via definitiva e dopodiché se c'è necessità faremo il mea culpa, come abbiamo sempre fatto e abbiamo sempre dimostrato di fare, siamo in grado e capaci anche di chiedere scusa ai cittadini Teramani quando ci rendiamo conto che abbiamo sbagliato. Vorremmo che altrettanto facessero gli altri quando sbagliano i nostri confronti.